Con Simone Tiberti una vittoria importante, la quarta vittoria, questa è la cosa più conta, avete battuto tutte le squadre alla vostra portata, le dirette concorrenti, per quale obiettivo? Perché a questo punto la domanda è qual è il vostro obiettivo? C'è per solito la salvezza, oggi abbiamo fatto una partita non bellissima, di fronte avevamo una buona squadra che ha fatto bene fino adesso, che sicuramente darà del filo alla torcia a tutte le squadre come noi stasera e l'importante è di stasera fare i tre punti, siamo riusciti a farlo con un po' di fatica, però mi piace questa capacità di soffrire anche nelle giornate in cui non tutto va bene. Hai comunque distribuito il gioco alternato, il centro, Bellei, Cisola nel terzo set, insomma cercando di capire qual era il momento migliore dei tuoi compagni, la squadra comunque è abbastanza omogenea. Sì, sì, poi oggi secondo me loro hanno fatto una bella partita in battuta, quindi abbiamo avuto poca continuità in ricezione, magari ho giocato meno con i centrali rispetto al solito, però sì, il difficile del mio ruolo è quello, capire soprattutto nei momenti punto a punto a chiedere il pallone, per oggi è andata bene, poi dopo c'è stato l'avvicinamento Margutti-Mazzone e anche quello non è facile, puoi rimettere subito un compagno in partita, però insomma portiamo a casa questi tre punti perché oggi era veramente difficile.